beh ma se la taglia di qua vogliono andare sempre in verticale dio abbroia via delì via via taglia bravo bella totti va girando in là calma scato fuori gioco occhio arriva Omar facci vedere fagli contro bravi bella Omar gran palla bella Omar gran palla questa è già là bella bravo bravo Enzole nooo dagli una botta dagli una botta dai la parli così allora eh l'hai lì dietro vuol continuare a calciare dio boia si chiama lì fai scalare la difesa di qua ma no ma no prendilo tu quello e fai scalare Luca di qua se no è potretta venire in mezzo tizio tizio se andate in mezzo e siete tu e lì e con un solo uomo e potrete venire anche Luca uno lo prende Luca si mette a suo foglio ragazzi ragazzi quando siete imbutigliati aprite dall'altra parte dai il gioco non andiate sempre a picchiare contro il muro voglia leva ecco l'accidente è da qua hai visto voglio sempre imbutigliarseli così torca bravo peccato siamo lontani non lo rifai grande fray grande fray perché fate quelle cassate lì oh giocate via giocala giocala così di qua aprite in basso gira giocala giocala totti vai pure totti vai 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 totti fatemi dire aperto fatemi dire aperto totti bisogna girarla piano piano facci vedere ecco la te la dico dio porco allora inutile che cosi ragazzi facciamo girare la palla forza zucca 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 falla da andare non regalargli così la palla qui si dice che non ne va più è a rallentare sembra che corresta più raro al contrario si ma non so che non gli può regalare così o che la fermo o che la lascia la stoppa ragazzi fate girare la palla qua centro campo dai pipì pipì calcio calcio di corno stai riprendendo? sei il regista di questa grandissima voglio riuscire a filmare un gol mi piace come sei così concentrato perché perdiamo delle palle così Mauro? perché perdiamo delle palle così? si poggetti poggetti ancora pipì qua vai pipì qua vai massa vai massa vai la massa vai un dio bisogna eh bello vai orca va bene lo stesso è combattuta dai per fortuna che ha preso il zuffetto fate vedere una di una mano passaggio mauro mai verso il centro calma ragazzi calma calma dai che mezzo ero bruttissimo mauro mai sai cosa qua dai oh questo li fa tutti i cambiofagli tutti i cambiofagli ma bisogna chiamarli eh io li chiamo sempre la rimessa porca miseria voglio dire una cosa da poco eh se li fa batte tutti così alla fine non puoi chiamarne una no mai visto che il batte così le chiami una le chiami due e la quarta o la quinta te la da lo vai vado bella palla io voglio tollo scando bene farnetti sta stoppando le palle che non è che fassi via questa era un po' rigurino questa dopo la riguardiamo a rally questa era, si la guardiamo dopo la guardiamo 8 minuti e 23 dopo la guardiamo scusa mi interrompo la ripresa niente questa è la pera alla massa questa è la pera alla massa permetti bravo 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 ah la grande guardiamolo cazzo Walter cosa dici del gol? bravi bravi concreti che non è successo niente eh ragazzi Walter cosa dici del gol? io devo dire che ho fatto una cosa favolosa ma quando si ha il coraggio di tirare si è sceso bene è stato bene un gran gol non era neanche facile ce l'ho dico c'è l'avversario lì dai 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 grande ma ah proprio alla f***a